Noi abbiamo creato la prima agenzia musicale nel matrimonio specializzata nella festa, non facciamo nessun altro evento che non sia un matrimonio e a differenza di tutte le soluzioni che voi avete visto prima, che sono sbagliate, ma non per tutti, per la vostra esigenza, perché magari per uno che cerca il super concetto vanno bene, ok? Ok? Noi abbiamo creato un metodo unico, esclusivo, attraverso il quale coinvolgiamo tutti gli ospiti, ma la nostra differenza sta nel come, cioè in modo spontaneo e naturale, e la cosa per me che mi dà orgoglio è quello di portare i sorrisi nella vita delle persone, perché ho anche scritto quello che è il primo libro sulla festa di matrimonio pubblicato su Amazon. Ma perché siamo diversi ragazzi? Semplice, noi abbiamo creato un metodo che adesso andiamo ad analizzare, le mie attrezzature ragazzi le troverete ovunque, non è quello che mi differenzia, ma il metodo, abbiamo creato una ricetta unica, speciale, dove abbiamo degli ingredienti che altri non hanno. Qual è? Uno è il metodo, e ragazzi a me sto metodo mi è costato dieci anni di vita, perché ho dovuto sbagliare, provare, testare, migliorare, testare, riprovare, il continuo miglioramento. Due, la specializzazione, cioè ragazzi se uno c'è un problema serio di salute, non vada al, non vada al medico generico, vada allo specialista, se ci tiene poi alla sua vita, non ci tiene quando un po' si può pure operare da solo, non è quel problema. E essere specializzati ragazzi su una festa di matrimonio, credetemi, è un altro sport, perché il matrimonio ha dei problemi, delle dinamiche, delle tempistiche, che non ha nessun altro tipo di evento, fa tutta la differenza del mondo. Quindi noi facciamo vivere questo giorno in modo unico, in modo travolgente, dove tutta la gente è scatenata attraverso degli step, attraverso dei passi, delle azioni, attraverso un metodo. La nostra missione ragazzi è questa, questa è domenica, Villa Iamele, tre del mattino, quando ci ha abbracciato, mi ha abbracciato, era felicissimo perché la gente fino a quell'ora saltava. E per me, ragazzi, quando vedo oggi persone, cioè io non voglio che le persone vivano quello che ho vissuto io, perché io da quando mi è capitato questo avvenimento vivo la vita al massimo, quindi viaggio, io non voglio perdermi niente della vita, neanche un secondo. E voglio che altre persone non si perdano quello che ho perso io, e soprattutto in un giorno così unico, che è unico nella vita, non puoi, non puoi viverlo o in modo piatto o essere deluso, perché è una cosa che ti rimpiangeresti a vita. E questo è il perché mio più forte, questo è un ragazzo di sabbia, un matrimonio, per me vedere questo, ragazzi, dopo sapere quello che ho passato e vedere gente che ha, tra virgolette, problemi o difficoltà a vedere quel giorno felice, questo va al di là di qualsiasi ricompensa economica. Giustamente sarei ipocrita nel dire, ovvio che è un'azienda e giustamente come voi lavorate, anche io lavoro anche per i soldi e per mantenermi e tutto, ma non bastano i soldi, se poi non c'è questo. Qual è la cosa che ci differenzia? Questa è mia mamma, la mia storia poi sul libro è un po' più lunga, mia mamma aveva un problema ai denti, molto complesso, soffriva di piorrea, e quando mio padre aveva avuto un incidente stradale noi abbiamo scoperto un'assicurazione che avevamo, e con quell'assicurazione io volevo comprarmi il primo impianto audio, io ho detto no, i soldi prendili tu per farti l'operazione ai denti, lei ha detto no, i soldi devi prenderli tu per iniziare il tuo sogno, e da lì è iniziato tutto, e vedere oggi mia mamma è così sorridente e tutte le persone felici per me la ricompensa più grande, quindi questa è la mia missione. Il come, cioè quell'energia deriva da qua, ecco adesso capite perché. Il successo di un matrimonio si basa sul divertimento di tutti i tuoi invitati, il nemico numero uno che devi battere è la noia, non è il mangiare bene, mangiare bene oggi è scontato ed è il minimo sindacabile, non devi quindi partire dalla scelta della location, ma devi partire sapendo quali sono i primi passi che devi fare per annientare la noia. Se vuoi scoprire come annientare il nemico numero uno di un matrimonio divertente, clicca subito sul primo link in descrizione, scopri di più e ti aspetto dall'altra parte. Ciao!